Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul tubo del degrado Oggi primo video tutorial sul team building Oggi parleremo di skill leveling, cioè di come skillare le UR Di certo non è l'argomento ideale per iniziare a parlare di team building Ma visto che sono pronta a mettere in pratica oggi le spiegazioni, arriverà per primo Sicuramente è tra gli argomenti più complessi da spiegare a parole Motivo per cui vi metto nel box info vari link ai post di riferimento del reddit Da cui ho preso delle varie nozioni In più ho creato un foglio di google dove vi riassumo i numeri essenziali che servono quando volete skillare le UR Per esempio quanta esperienza hanno bisogno per passare da livello 1 a un altro livello Oppure da quanta exp hanno bisogno per passare da un livello a quello successivo E quanti punti esperienza invece forniscono quando vengono dati in passo ad altri ultra rari in base al livello di skill in cui si trovano Spero funzioni il link, spero che possiate aprirlo e vederlo Nel caso ditemelo se non funziona E niente così insomma lo potete consultare magari anche mentre parlo nel corso del video per capire meglio un po' tutto Visto che essenzialmente si tratta di matematica Ma iniziamo e partiamo dalle basi Cosa vuol dire skillare una carta? Skillare una carta su Sif significa alzarle il livello di skill per renderla più potente E poter ottenere in questo modo degli score più alti nelle canzoni Ogni carta dalle rare alle ultra rare può essere skillata E a seconda chiaramente della rarità della carta stessa richiede più o meno risorse per passare a livello successivo Il livello massimo di una carta è l'otto E le uniche carte che avrebbe senso skillare sono le ultra rare Se siete agli inizi o se non avete ancora i team full ur potrebbe essere necessario skillare anche le SSR Ma vi consiglio di farlo solo con eventuali doppioni E quindi di non sprecare delle carte di supporto per delle SSR Questo anche perché se voi avete una ur ben skillata almeno al 4 o 5 Poi dipende sempre dalla ur Anche se di un attributo diverso andrà sempre meglio di un SSR dello stesso attributo Ok? Ma di questo comunque ne parleremo meglio in un futuro video In ogni caso oggi vi parlerò esclusivamente di come si skillano le ur Nei link del reddit vi spiegano anche tutti i numeri per l'SSR Ma secondo me non vale proprio la pena Ora, quali ur si possono skillare? Dunque, date la precedenza a delle carte forti o comunque alle più forti che avete Che possono essere delle scorer o qualche limited particolare Anche delle limited comunque delle scorer parleremo in un altro video Quindi oggi non mi voglio soffermare su quali scorer posso skillare Quali limited posso skillare Ne parleremo più avanti Allora, di che cosa avete bisogno per skillare un'ultra rara? Di tre cose essenzialmente I gold che sono questi qua che vedete in alto Le carte di supporto e per livelli di skill più alti anche dei doppioni della stessa ultra rara Andiamo a vedere le carte di supporto nella member list e support member Allora, le carte di supporto sono divise anche loro come le carte normali per rarità e attributo Anche se rispetto alle carte normali ne hanno uno in più Ci sono i fratellini di Nico che sono Smile, Pure e Cool E poi ci sono questi alpaca qua Tutti questi danno 10 punti esperienza alle vostre carte Indipendentemente dalla rarità Cioè se voi le date a un SR, un SSR, un Ultra Rara danno sempre 10 punti esperienza Poi ci sono le SR di supporto Che anche loro sono Smile, Cool e Pure E le Prof, queste qui, Viola Che danno le SR 10 punti esperienza E poi ci sono le Ultra Rara che invece danno di supporto Che danno bene 1000 punti esperienza Ogni carta può essere skillata con le supporter dello stesso attributo E anche da quelle Viola Che sono delle supporter, chiamiamole jolly Perché possono skillare tutte le carte di qualsiasi attributo Cioè io ho una Ultra Rara Pure Le posso dare la mamma di Kotori Le posso dare Shimatakami Ma le posso dare anche le mamme di Zika o di Onoka Per quanto riguarda le UR il stesso discorso vale per le SR e le rare di supporto Le carte di supporto, l'ultima cosa, è che non possono essere skillate È probabilmente una roba ovvia Ma ci tengo a specificarlo Ora, come si guadagnano le carte di supporto? Allora, a volte le regalano tramite delle missioni Se siete fortunate vi escono dai reward dei medley e dei challenge festival Si riescono a prendere dagli SR più skill up ticket Che sono dei ticket che vi consentono di scautare appunto per le supporter E sono presenti nei pack Vi possono uscire anche dalle uova E anche loro si possono ottenere tramite alcuni goal E loro hanno il 5% di uscita di un UR di supporto E il restante 95 per le SR Le carte di supporto le potete prendere anche dal Point Shop del Ritmic Carnival Quindi se voi andate in Shop, Point Shop Vedete che avete i fratellini di Nico e le SR di supporto e basta Oppure le potete prendere dal Seal Shop Ogni mese avete al costo di 60 sticker rosa Potete prendervi 4 SR di supporto viola Queste qui che costano, vedete, 15 sticker rosa ciascuno Possono essere presi due volte Io ste mesi le ho già prese Due volte ogni SR viola Quindi 4 SR viola al mese Per 60 sticker rosa Cosa che vi consiglio di fare sempre Altro metodo con il quale potete ottenere le carte di supporto E scoutare con i BT singoli No, ho visto quanti ne ho Vabbè, niente Doveva essere un segreto Ma vabbè, comunque con i BT singoli E avete il 10% dell'ultra rara Un 30% per trovare un SR E il 60% di trovare le R Bene Io solitamente ogni tot sticker rosa che accumulo Prendo parecchi BT e faccio un bello scout nelle supporter Potete usare volendo per i BT anche gli SIL argento Ma io personalmente li tengo per idolizzare o slottare oltra rara Ma potete usare benissimo anche gli SIL argento In base a come preferite gestirveli voi Non c'è una regola Allora, le UR classiche invece In base al loro livello di skill in cui si trovano Danno più o meno punti esperienza Se si decide di dare l'impasto alla stessa UR E questo è un appunto abbastanza fondamentale In particolare a skill 1 danno 1000 punti esperienza A skill 2, 2000 A skill 3, 4000 A skill 4, 6000 A skill 5, 9000 Skill 6, 12000 Skill 7, 15000 E a skill 8 regala ben 22000 punti esperienza Comunque tutti questi valori li trovati nel foglio di Mugel Attenzione però a una cosa molto importante All'overflow della EXP Che cos'è l'overflow della EXP? Adesso vi faccio vedere un esempio Io ho la mia Cotori poliziotta Che come vedete è a livello 4 Ok? Che ha appunto, supponiamo di avere una guerra skill 4 Con dei tot punti di EXP già in eccedenza Come vedete in questo caso sono 600 punti esperienza in più Se io volessi dare in pasto questa Cotori a un'altra Cotori Non riceverei 6000 Che sono i punti che una guerra skill 4 E punti esperienza che una guerra skill 4 Mi dà a un'altra UR Più i 600 che lei ha in più Ma mi darà sempre e solo 6000 punti esperienza Quindi in questo caso io avrei buttato e sprecato ben 600 punti esperienza Qui è arrivata a questo livello tramite solo e esclusivamente doppioni suoi Non perché mi sono messa a schellarla così a caso Le UR vanno date via sempre, sempre Con la barra del livello di skill a 0 Sempre Un errore che anche io in passato ho commesso È stato dare una UR di supporto a una UR di skill 1 Adesso vi faccio vedere che cosa succede Facciamo practice con una UR se il gioco collabora Allora supponiamo, vogliamo skillare questa Cica Che è a livello, vedete, skill level 1 su 8 Vado a darle una UR smile Vedete, arriva al 3 con quei 100 punti esperienza in più Se io questa Cica dopo la volessi dare via a un'altra Cica Brucerei quei 100 punti esperienza Quindi non fatelo mai Ora, esistono diversi metodi per skillare le UR Non ce n'è uno più giusto di un altro Dipende un po' dalle risorse che avete Solitamente con le carte di supporto vi consiglio di portare le vostre UR al 4 massimo al 5 Dal 5 in poi diventa parecchio pesante e sconveniente farlo solo con le supporter Vi basti pensare che per portare una UR dal 5 al 6 servono 5000 punti esperienza Che non sono proprio pochi E potreste al massimo farlo con le limited Visto che è più difficile avere, diciamo, dei doppioni Cosa che mi è capitato di fare con, per esempio, una o due, non ricordo Umis con gli unity Ok? Ora, esiste un modo migliore per portare una UR a skill 4 o a skill 5? Per portare, per esempio, una UR dal livello 1 al livello 4 possiamo procedere in tre modi Darle 2400 punti esperienza con le supporter Portare al 2 una UR doppia con 300 punti esperienza Darla in passo alla UR di livello 1 e aggiungere poi 400 punti esperienza Oppure ancora portare al 3 una UR con 900 punti esperienza E darla poi in passo alla UR skill 1 Io personalmente vi consiglio in questo caso solo il primo punto Semplicemente perché secondo me il modo migliore per skillare le UR È trovare un equilibrio tra i doppioni e le supporter che utilizzate E la seconda e terza opzione sono svantaggiose Nella seconda perché sprechiamo proprio un doppione Cioè se lo dobbiamo dar via solo al livello 2 è veramente buttato E nella terza perché ci troveremo con una UR al 4 con parecchi punti di ineccedenza E se un domani la vorremmo dar via saranno tutti punti sprecati Sempre per il discorso dell'overflow Anche per portare una UR al 5 dal livello 1 ci sono diverse strade In base un po' al numero di ultra rare che avete come doppioni Ma i metodi migliori secondo me rimangono due Usare 5400 punti esperienza Oppure portare una UR al 3 con 900 punti esperienza Dall'impasto a quella di livello 1 E aggiungere poi 1400 punti esperienza Questa seconda opzione è più conveniente in termini di supporter necessarie Cioè risparmiate un poco più di 3000 punti esperienza di supporter Che non sono proprio pochi Ma avete bisogno chiaramente di un doppione Quindi vedete un po' voi in base alle risorse che avete Io personalmente di solito preferisco portare Anzi ho sempre fatto così per ora Portare le UR di partenza al 5 solo con le supporter Ma poi sono scelte Ok? Boh Supponiamo ora di avere una UR ben schillata al 5 Con 0 punti di overflow Ed è il caso Oggi vi faccio vedere Prendiamo come esempio questa Onoka Che è questa Onoka Pool livello 5 Come vedete è full slottata Dettaglio importante che poi ne parleremo dopo Come faccio a portarla a livello 8? Allora Dunque Oggi vi faccio vedere un metodo Un metodo abbastanza semplice Che richiede oltre a questa Onoka qui Altre 4 UR di Onoka In più Per un totale di 12 sil arcobaleno Ricordandoci comunque poi che queste 4 UR verranno date via E produrranno nuovamente 4 sil arcobaleno Quindi in totale come se ne avessi usati 8 E' chiaro che comunque in partenza ne ho bisogno di 12 Però insomma in realtà non è vero Perché se ne usate uno per volta ne basterebbero meno Ma comunque E' poco più di 10.000 punti exp Se non avete comunque abbastanza supporter Perché io ho due Onoka Pool da tirar su Però non so se ho abbastanza carte di supporto Ma i sil li avete tutti Accaparratevi lo stesso le copie che vi servono Soprattutto se parliamo di scorer molto forti Come è il caso di questa Onoka E poi piano piano con il tempo le skillerete Anche perché comunque è più facile Farmare carte di supporto Rispetto ai sil arcobaleno A meno che voi non vendiate ogni UR che non vi serve Se diciamo siete delle balene Il problema non si pone Se siete free to play O comunque shoppate relativamente poco E vi interessa solo e esclusivamente il team building Ha senso buttare tutto ciò che non vi serve Io shoppo abbastanza Ma non butto mai via SR, SSR e ultra rare A meno che non siano doppie, triple, eccetera copie Perché comunque mi piace collezionare delle carte Amo il team building Lo sapete Ma non macellerei mai le mie ultra rare Mai Quindi il processo è sicuramente più lento Perché ci si mette un po' a farmarsi l'arcobaleno Ma comunque pian pianino ci si arriva Anche in questo caso non c'è il modo giusto o sbagliato di agire Ognuno fa quel che vuole del suo account Cioè se uno vuole mille UR se le tiene tutte Se uno vuole aspirare la tua parte nello score ranking È liberissimo di buttare tutto quello che vuole Se uno invece vuole stare nel mezzo Va bene anche quello insomma Comunque adesso andiamo a fare il tutto Quindi vado a prendere 4 UR per adesso 4 UR di Onoka Dov'è? Questa qua Dunque 2, 3 Mamma cara Ok 4 UR di Onoka Bene 12 come vedete Beh? Ma li ha presi o no? Ma Use Ok 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 Si vede che Boh Si era un attimino Era un attimino indeciso Quindi Vado a fare Devo fare lo spazio nella memberlist Perché non ho spazio E E niente Di queste 4 UR Adesso farò tutto off camera Perché sennò domani mattina siamo ancora qua Ne porto di queste 4 3 A skill 4 E 1 A skill 3 Usando 2400 punti esperienza Per ogni carta Da portare al 4 E 900 punti esperienza Per portare La quarta A livello 3 Ok Quindi faccio questo E poi ci rivediamo Allora Eccomi di nuovo qui Dunque Vi faccio vedere Visto che mi manca Solo Da portare al 3 Solo Una Una di queste onoka Vi faccio vedere appunto Come si fa Allora Vado in practice Prendo la mia onoka Spero di aver preso quella giusta Sì ok Chiaramente Non le vado Queste carte A livellare Cioè portare all'80 Perché non mi serve a niente Quindi Schiaccio su uno dei Pallini Devo portarla al 3 E quindi Vado a selezionare Le mie sr di supporto Esatto Controllo che Non ci sia overflow Quindi che sia Arrivi a livello 3 Con 0 punti exp In eccedenza E faccio practice Ok 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 E la nostra onoka È a livello 3 Ora Cosa dobbiamo fare Adesso Adesso io ho queste Che sono al 4 Anzi Facciamo una cosa Dovrebbe vedersi Da skill Ok perfetto Ok perfetto Esatto Allora Vado a prendere La mia Onoka Di partenza Se la trovo Qual è delle due Non è questa Non è questa È quella Vero Perché Sennò dopo Ok Sì è lei Quindi Prendo E le do Come prima cosa La ur A skill 3 Se mi fai vedere Gentilmente Ok Ora Cosa devo fare Devo aggiungere Come potete vedere 1000 punti Esperienza Per farla Arrivare al 6 E quindi Lo andiamo a fare Con le carte Di supporto Chiaramente Come vedete Non ne ho abbastanza Però C'è una abbastanza Di quelle smile Perché Le mamme Le ho già Smacellate Però Non è un problema Perché come vedete Allora Aspettatene 3 7 Ok Vedete Arriva al 6 Overflow 0 Va benissimo Così E andiamo Con la practice Forza Ce la puoi fare Ok La facciamo Arrivare Al 6 E abbiamo ovviamente Ottenuto Il nostro Sticker Adesso Cosa facciamo A questa Onoka A livello 6 Le diamo Una Delle Altre Onoka A livello 4 E come potete Vedere Devo aggiungere 1500 punti Esperienza Per poterla Portare Al 7 E quindi Per far prima Le do Una Di queste E 5 Di queste Esatto Arriva al 7 Con un overflow Pari a 0 Quindi Forza E coraggio Dai Su Ok E come vedete Arriva al livello 7 Adesso L'ultimo Passaggio Molto Molto Semplice È dare A questa Onoka A livello 7 Le altre Due Onoka A livello 4 Come potete Vedere Arriva Perfettamente A livello 8 Quindi Uno screen Merita Questo passaggio E quindi Abbiamo La vostra Onoka Success A livello Massimo Quindi Come potete Vedere I passaggi Sono molto Molto Semplici Quindi in totale Io ho utilizzato 4 punto Copie Della mia Onoka E 10 1600 Punti Esperenza Se ho calcolato Bene In questo processo Però Come vi ho detto Anche prima C'è da considerare Una cosa Importante Io avevo La mia Onoka Di partenza La mia Carta Di partenza Già Idolizzata Ma soprattutto Full Slottata Che come potete Vedere Ha gli 8 Slot Tutti Aperti Se fosse Stata Come L'altra Che ho Come questa Al massimo Idolizzata In questo caso Idolizzata A bollini Perché vedete Che ha 4 slot E non 5 Quindi vuol dire Che non è stata Idolizzata A copia Avrei Potuto Questa Onoka Questa UR Qui Darla A una UR Doppiona A skill 1 E con 1000 Scusatemi 400 Punti Esperienza Aggiuntivi Sarebbe Arrivata Al 6 Invece Io Cosa avevo Fatto Ho portato Una UR Al 3 E l'ho data Alla mia Onoka Di partenza Aggiungendo Dopo 1000 Punti Esperienza Poi Chiaramente Sarebbero Bastati Sempre Altre 3 Ultra Rare Al 4 E con Gli stessi Passaggi Che ho Conchiuto Sarebbe Arrivata Poi All'8 Domanda Ma se Invece Di una UR Al 5 Fossi Partita Da UR A skill 4 Semplice Allora Questa UR A skill 4 L'avrei Data In Passo A UR A skill 1 E Avrei Ottenuto In questo Modo Una UR Al 5 Però Questa UR Al 5 Avrebbe Avuto 600 Punti Esperienza In eccedenza Come era Capitato Come vi Ho fatto Vedere Per la Cotori Poliziotta Che avevo Io Oggi No Aspettate Con 600 Punti In eccedenza A quel Punto L'avrei Dato A questa UR Al 5 Con 600 Punti Exp In più Le avrei Dato La solita UR Skillata Al 3 Come ho Fatto Oggi E Aggiunto In quel Caso Solo 400 Punti Esperienza In più Io Oggi Ne ho Giunti 1000 Perché In questo Passaggio Perché Semplicemente La mia UR Di partenza Al 5 Non aveva Nessun Tipo Di punto Di overflow Di esperienza Invece In quel Caso Ne avrebbe Ben 600 Poi Avrei Continuato In ogni Caso Con gli Stessi Passaggi Questo È una Cosa Che Vi Fa Conveniente Slottare Le UR Perché A volte La vostra UR Di partenza Potrebbe essere Poi Quella Che Sacrificate A un altro Doppione E quindi In quel caso Avrete sprecato Dei Dei Bollini Il momento Migliore Per iniziare A slottare Una carta Ultra Rara È Teoricamente Quando raggiunge Almeno Il livello 6 Di skill Perché A quel Punto Non Verrebbe Mai Macellata Perché Non Avrebbe Senso Dare Via Una UR Al 6 Ok Ora Nel primo Link Che vi Ho lasciato Nell'infobox Del reddit Vi spiegano Tutti I modi Possibili Su come Skillare Le UR Ai vari Livelli In base Come skillare Le UR Ai vari Livelli In base Al numero Di ultra Rare Che voi Avete Come doppioni No Che trovate Nella prima Colonna IWARS Io oggi Chiaramente Non ve le sto A spiegare Tutti Perché Sennò Postdomani Siamo Ancora Qua In ogni Caso Se Nella colonna Che loro Considerano Come Exp Waste Trovate Zero Significa Che Una Di quelle Opzioni È La Migliore Che potete Utilizzare Per Skillare Le vostre Ultra Rare Se Invece Trovate In quella Tabella Exp Waste Un numero Superiore Allo Zero Significa Che è Un'opzione Che vi Porta Via Troppe Risorse E Non Ha Assolutamente Senso Essere Utilizzata I modi Di agire Sono Quindi Differenti E dovete Valutare Voi Se siete Disposti A usare Più Sticker Arcobaleno O Qualche Supporter In più Io Vi Ho Mostrato Uno Dei Metodi Più Semplici Che Sicuramente Vi Fa Utilizzare Un bel Po Di Supporter Ma Vi Permette Di Ottimizzare Un po' Gli Seeker Arcobaleno Considerate Comunque Che Per Portare Una UR All'otto In ogni Caso Il numero Di Supporter Che Voi Dovete Utilizzare È Comunque Elevato Perché Parliamo Di Un R Skillotto Altrimenti Avremmo Tutti Dei Team Full UR All'otto In Due Secondi Se Non Fosse Un Minimo Difficile In Termini Proprio Di Risorse Sarebbe Troppo Facile Ora Secondo me Non andrebbero Mai Mai Usati Per Idolizzare O peggio Slottare Le ultralare Ma Tenuti Per Prendere Altre UR Dal Sillshop Per Le Idolizzazioni Ci sono I bollini Oro O Al massimo Gli Argento Quelli Arcobaleno Sono Difficili Da Ottenere Non Buttateli In Quel Modo Uno Fa Quel Che Vuole Col Su Account Siamo D'accordo Ma Se Proprio Volete Togliervi Lo Sfizio Di Idolizzare Una UR Che Vi Piace Avete Bisogno Di Solo 5 Bollini Oro Che Si Ottengono Abbastanza Facilmente O Comunque Più Facilmente Degli Sticker Arcobaleno Considerate Poi Che Se Voi Ottimizzate Gli Sticker Arcobaleno Per Skillare Le Vostre UR Migliori E Potenziare Così I Vostri Team Poi Farete Sempre T1 Nello Scorranking Degli Eventi E Quindi Otterrete Il Vostro Bollino Oro Senza Troppa Fatica Senza Contare Poi Anche Di Quelli Argentati Che Vi Danno Considerate Inoltre Che Se Fate T1 Anche Nella Classifica Evento Avete 3x2 SR Perché Avete 2 SR Chiaramente Considerando Gli Eventi Che Ci Sono Adesso Su Swift Global Non Quelli Strani Del JP Con 300 SR Ok Avete 2 SR Diverse Però Di Ogni SR Avete 3 copie Se Due Di Queste Copie Le usate Per Idolizzare La Vostra SR Avete Comunque Due Terze Copie Che Andrete Ovviamente A Cestinare E Quindi Avrete Due Bollini Argento Extra Mentre Per Quanto Riguardo Alle UR O Siete Estremamente Fortunati Ne Trovate Di Continuo O Shoppate Tanto O Buttate Tutto Ciò Che Non Vi Serve Oppure Faticate Tanto Per Trovarne Una Che Potete Bollinare Quindi Quel Bollino Arcobaleno È Prezioso Conservatelo Io Direi Che Credo Di Avervi Detto Tutto Credo Spero Di Essere Stata Chiara Spero Che Questo Video Sia Stato Utile Spero Abbiate Capito Cioè Spero Più che Altra Di Esser Mi Spiegata Poi È Chiaro Che Su Alcune Dinamiche Ripeto È Essenzialmente Matematica Quindi Bisogna Un attimo Entrare Nel Meccanismo Dello Skill Skill Leveling Ma Vi Assicuro Che Poi Una Volta Compreso È Veramente Molto Semplice Ovviamente Ripeto Servono Un po' Di Risorse Ma Non è Così Impossibile Ora Se Se Voi Avete Delle Domande Scrivetemele Pure Nei Commenti Io Vi ringrazio Per aver visto Questo video Fatemi sapere Se sono stata Effettivamente Chiara E Niente Ci vediamo Al prossimo Video Io Ovviamente Sto Scrivendo Nel Tempo Libero Sto Scrivendo Vari Altri Video Sul Team Building Quindi Pian Pianino Questa Rubrica Questa Mini Rubrica Mini Guida Diventerà Più Completa E Quindi Spero Che Questi Video Possono Essere Possono Esservi Utili Per Cercare Di Costruire Dei Team Più Forti Ecco Niente Vi ringrazio Per aver visto Il video Iscrivetevi Al canale E noi Ci vediamo Al prossimo Se volete Potete entrare Nel gruppo Facebook Del Degrado E Niente Noi ci vediamo Al prossimo Video Ciao Tutti Ah Dimenticatevi Non Dimenticatevi Cium Cium Ciao